Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di sanità. A Catania si è svolto un incontro sull'importanza del partenariato pubblico-privato. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Al Policlinico Universitario di Catania si è svolto un incontro sul virtuoso ed equilibrato rapporto di partenariato tra pubblico e privato fondamentale per razionalizzare risorse, personale e presenza sul territorio della sanità siciliana. Queste le tematiche affrontate con esperti del settore nell'ambito della quarta lezione della Scuola di Formazione per il Bene Comune. Dopo i saluti istituzionali dei presidenti, Antonio La Ferrara per Future Lab, Salvatore Motta e il vice Roberto Monteforte per Compagnia delle Opere Sicilia, che hanno organizzato l'incontro, sono intervenuti i tecnici che, dal punto di vista legislativo, amministrativo, organizzativo e logistico, hanno approfondito la tematica del partenariato pubblico-privato, nel quale le due parti mettono in campo le migliori risorse, professionali, gestionali e economiche, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e il rispetto delle direttive nazionali con il ritorno della sanità sul territorio. All'incontro hanno partecipato anche studenti universitari di varie facoltà, rappresentate da esponenti delle associazioni e degli istituti superiori, spedalieri e Galilei di Catania. Il partenariato pubblico-privato è proprio un esempio importantissimo di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, e di ottimizzazione delle risorse del privato, quindi parliamo della possibilità di disporre di risorse finanziarie e dell'esperienza del know-how del pubblico. È ovvio che in tutto questo c'è un vantaggio di tipo macroeconomico, cioè la possibilità di poter disporre di queste risorse ingenti, risorse finanziarie del privato che il pubblico spesso non ha, è la possibilità anche del pubblico di poter sopperire alle difficoltà, ma c'è anche un vantaggio di tipo microeconomico che è la maggiore efficienza e la maggiore produttività che può garantire il privato. La sanità è un problema o comunque qualcosa che riguarda un po' tutti, quindi dalla nascita fino all'ultimo giorno della vita, quindi è fondamentale dare un occhio di riguardo a quello che potrebbe essere l'innovazione e a come potrebbe svilupparsi grazie ai canali del PNRR cosa si può veramente integrare e come si può del tutto cambiare meglio quelli che sono i servizi da poter offrire ai vari cittadini. L'odevole iniziativa da parte dell'associazione Perla Ionica, siamo a Taormina, l'associazione ha donato oltre 700 giocattoli all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Davide Cacciola, presidente dell'associazione Perla Ionica, un'importante iniziativa è stata effettuata a favore del CCPM dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Cosa avete realizzato in questi giorni? Abbiamo realizzato una raccolta giocattoli per le varie dinamiche sociali del territorio, tra cui abbiamo donato una serie di giocattoli al CCPM di Taormina e ai vari reparti di pediatria dove sono presenti dei bambini. Questa raccolta è stata ideata per dare un sorriso a quei bambini che si trovano in difficoltà, bambini che comunque non hanno la possibilità di acquistare dei giocattoli. Quanti giocattoli sono stati consegnati in questo periodo? Abbiamo avuto circa 700-750 giocattoli da consegnare, tra nuovi e usati, ed è stato un ottimo risultato. Cosa pensa della possibile chiusura del reparto di eccellenza che cura i cuoricini dei più piccini? Assolutamente contro, è un abominio per il territorio. Ci saranno altre iniziative della Perla Ionica? Esattamente, con certezza. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a fiume freddo, parliamo del trionfo di un giovanissimo artista siciliano, Martin Spina, che vince nella sua categoria i campionati nazionali di beatbox che si sono svolti a Venezia. Lo ha intervistato Mauro Romano. Martin Spina, con i genitori Salvo e Carmen. Di che cosa sei campione, Martin? Sono il campione nazionale under 18 della categoria beatbox, che è, detto in parole povere, musica riprodotta con la bocca, con il diaframma. Quanti sono i tuoi fans? Su Instagram, sui social? Allora, su Instagram mi trovate come martin-beatbox, ho circa 800 follower e su TikTok invece ne ho 1.300, mi trovate con lo stesso nome. Dove si è svolto il campionato di cui tu sei stato vincitore? Quindi, ci sono state le selezioni tramite video e hanno scelto 50 migliori artisti d'Italia. Il nazionale si è svolto a Venezia, dove appunto ho preso la mia vittoria rappresentando appunto la Sicilia. Ma ci fai capire che cos'è? Cioè, facci un pezzo, dai. Nel tuo futuro ci sono spettacoli, iniziative varie? Sì, intanto sono stato contattato da tante persone e sto cominciando a farmi notare a livello regionale per trovare un po' di visibilità. La cronaca partendo da Palermo, dove un cinquantenne è finito in manette arrestato dai carabinieri. Vediamo perché. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo Piazza Verdi, nell'ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio, hanno effettuato una serie di verifiche nei quartieri Brancaccio e Sperone. Nel corso delle operazioni hanno eseguito una perquisizione presso un barbiere allo Sperone. Il proprietario, un cinquantenne palermitano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra. L'indagato, infatti, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola Brasa, completa di serbatoio e relativo munizionamento, nascosta all'interno di un soppalco nel bagno del negozio. L'arma e le munizioni sono state repertate e sequestrate e verranno inviate al RIS di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per la commissione di altri reati. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Ci spostiamo adesso nella Siracusano, parliamo di un altro arresto. Si tratta, in questo caso, di un ventiquattrenne a Lentini finito in carcere. Vediamo perché. I carabinieri della stazione di Lentini hanno tratto in arresto un ventiquattrenne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. L'uomo, già agli arresti domiciliari per la medesima causa, dovrà espiare la pena residua di 5 anni e 4 mesi di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti, reato commesso a Catania nel 2018. Pertanto, dopo le formalità di rito, il ventiquattrenne è stato associato presso la casa di reclusione di Brucoli, così come disposto dall'autorità giudiziaria. I carabinieri delle stazioni di Rosolini e Pachino, invece, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio L'attività ha permesso di controllare 69 veicoli e identificare oltre 100 persone. In particolare, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 13 mila euro. Oltre ai controlli alla circolazione stradale, gli uomini dell'arma hanno verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altre misure limitative della libertà personale. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni con il supporto dei contingenti di rinforzo dell'arma su tutto il territorio della provincia aretusea. E' sempre nel Siracusano, ma ad Avola. Un uomo è finito in manette, arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di droga e armi. I carabinieri della compagnia di noto, supportati dai militari delle stazioni di Avola e Pachino, della compagnia ad intervento operativo del XII Reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 24enne gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di due fucili, uno dei quali con matricola brasa e munizionamento di vario calibro, nonché 53 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ci spostiamo a Catania, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti con gli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto un minonenne. Un equipaggio della squadra volante in servizio di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni Galermo, transitando in via Capopassero, ha notato due giovani che alla vista dell'auto della Polizia si sono dati alla fuga. Immediatamente gli agenti sono scesi dall'autovettura e hanno iniziato un inseguimento per le scale di una delle palazzine di un complesso edilizio popolare. Durante la fuga, uno dei due giovani si è disfatto di una busta in cellofan prontamente recuperata dai poliziotti, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Al suo interno sono stati rinvenuti 43 involucri termosaldati per un peso complessivo lordo di 11,42 grammi. Il giovane, che si era disfatto della droga, passando attraverso una piccola finestrella, è riuscito a salire una scala che lo ha condotto su una terrazza, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti sono però riusciti a bloccare l'altro giovane mentre tentava di occultare, all'interno di un bidone della spazzatura, un'altra busta in cellofan contenente sempre cocaina. Sono stati così recuperati 48 involucri termosaldati in cellofan per un peso complessivo di 14,07 grammi. La perquisizione personale eseguita ha consentito di recuperare la somma di 80 euro che è stata sequestrata quale provento dello spaccio. Il giovane è stato poi identificato ed è risultato essere un minorenne che dopo l'esecuzione dei lievi fotosegnaletici compiuti dalla polizia e dopo aver avvisato i genitori è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ne ha poi disposto l'accompagnamento presso il centro di Via Franchetti. E sempre a Catania la polizia ha beccato e sanzionato 10 parcheggiatori abusivi. La Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi provvedendo a sanzionare ben 10 soggetti sorpresi a esercitare tale attività nelle zone del centro storico cittadino. Nello specifico, 5 parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi in Via Cardinale Dusmet, uno in Piazzale Rocco Chinnici, uno in Piazza Turiferro e uno in Via Simeto. Quest'ultimo è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto inosservante al Dacur che era stato emesso nei suoi confronti dal questore di Catania e con il quale gli era stato fatto divieto di frequentare proprio la Via Simeto e le strade limitrofe. Il parcheggiatore individuato in Piazzale Rocco Chinnici, invece, era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione tra le ore 21 e le 6. Pertanto, essendo stato controllato e sanzionato nelle ore serali, è stato denunciato per le conseguenti violazioni agli obblighi a cui si trovava sottoposto. Analoghi servizi hanno consentito di controllare e sanzionare un parcheggiatore abusivo in Piazza Manganelli e un altro in Piazza Tricolore. Anche per quest'ultimo è scattata la denuncia in stato di libertà per l'inosservanza al Dacur al quale era sottoposto. Nonostante gli fosse stato vietato l'accesso a quella zona dove esercitava l'illecita attività, ha invece perseverato nella sua condotta illegale. Le specifiche attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi che sono state avviate su disposizione del questore hanno interessato le aree cittadine maggiormente frequentate dagli utenti della strada, quali quelle ubicate nei pressi di edifici pubblici, strutture sanitarie e luoghi di lavoro ad alta concentrazione di impiegati. L'azione di contrasto è stata costante e sistematica permettendo di individuare e sanzionare dall'inizio dell'anno a oggi 64 parcheggiatori abusivi e di sottoporne 30 al Dacur che è una misura di prevenzione personale che vieta l'accesso ad alcune aree urbane che viene predisposta a seguito di istruttoria dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. L'importanza della continuità di tali servizi risiede nella possibilità di passare dal carattere amministrativo rivestito dalla violazione delle norme del Codice della Strada a quello penale che assume la reiterazione di tale condotta, l'impiego di minori quali parcheggiatori abusivi e le violazioni delle misure di prevenzione che vengono adottate dal questore per evitare il ripetersi del fenomeno. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie. 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 Grazie.